Buongiorno, io mi chiamo Salvatore Valenti, abito a Palermo, lavoro, sono sposato con mia moglie Simona, nel 2007 ho acquistato un quadro raffigurante San Michele Arcangelo in occasione dei festeggiamenti della Madonna e l'anno dopo nel 2008, nel settembre del 2008, mentre ero in dormiveio ho visto una luce presentarsi, questa grande luce che emanava questo ragazzo alto circa 2,20 metri con gli occhi azzurri e i capelli biondi e mi disse chi come Dio sono Michele Generale e Arcangelo del Signore e mi disse di mettere il quadro che lo raffigura su una montagna nell'entroterra della Sicilia, nelle campagne di Petralia Sottana, ai piedi del santuario della Madonna dell'Alto. Così nel 2012, dopo quattro anni, ho messo il quadro, dopo aver ricevuto l'autorizzazione dal parco regionale per collocare il quadro, ho messo questo quadro di San Michele sulla roccia dove San Michele stesso ha benedetto l'acqua. San Michele Arcangelo mi ha dato in questo tempo nove messaggi pubblici e tre messaggi di penitenza. Il messaggio che San Michele dà all'umanità è quello di ritornare a vivere i valori cristiani, di riportare il Vangelo e i valori cristiani nella società. San Michele Arcangelo ci ricorda che Gesù è vivo nell'Eucarestia ed è la nostra unica salvezza, quindi dobbiamo andare a messa, comunicarci con Gesù, vivere il Vangelo affinché un giorno saremo degni di entrare in paradiso. San Michele ci invita anche a riportare i valori cristiani nel mondo, ma mi disse anche di consacrare le nazioni al cuore immacolato di Maria e di inserire la preghiera di Papa Leone XIII alla fine di ogni messa, prima della benedizione. I segni particolari per me sono le tante persone che vengono lì sul monte a pregare, magari qualcuno è venuto anche per curiosità, però poi si è convertito, ha sentito dentro, ha avuto lì un pianto di sfogo, diverse persone hanno sentito qualcosa dentro, una gioia e così si sono avvicinati, sono poi andati nella sua parrocchia, si sono avvicinati alla vita, ai sacramenti lì in parrocchia. Questi per me sono i segni. Poi un altro segno forte di San Michele è quello che lui ha chiesto di formare dei gruppi di preghiera, ha detto di riunitevi il 29 di ogni mese, ci ha indicato come pregare, riunite il 29 di ogni mese, esponete l'immagine del cuore di Gesù, invocato lo Spirito Santo, la corona angelica, le preghiere al cuore di Gesù e così su indicazione di San Michele che ha promesso che è presente in tutti i gruppi e intercede per noi, sono nati centinaia di gruppi di preghiera in Italia, in Francia, in America, in Africa, in diverse nazioni d'Europa e per me questo è il miracolo più grande, la nascita di tanti gruppi di preghiera come ha indicato San Michele Arcangelo. Grazie a tutti.